Grazie a tutti. Destra piena al rail, per destra piena, per sinistra 4 e subito sinistra 3, 4 e subito sinistra 3, per sinistra 4, tieni subito destra 5, vai, due tempi, per al cartello sinistra piena, lunga sconnessa, piena lunga sconnessa, per destra 5, per destra 3, tieni subito sinistra 4 al rail, 3, tieni subito sinistra 4 al rail, per al cartello sinistra 3, tieni subito destra 3, per subito sinistra piena, per destra piena, per accenno destro e subito destra 4, tieni subito sinistra 3, per sinistra 3, subito destra 4, tieni subito sinistra 3, tieni subito destra 4, per destra piena, 30, sinistra piena, 30, sinistra 5, attento al cartello tornante sinistro, per destra 5, bravo, 30, 5, 30, accenno destro, tieni subito sinistra 4, tieni subito destra 3, subito sinistra 3, subito al cartello destra 3, subito sinistra 3, diventa 4, subito destra 3, lunga 3, diventa 4, e subito destra 3, lunga, subito sinistra piena, subito accenno destro, subito, tieni subito sinistra 4, subito destra 4, per destra 3, apre 30, tornante destro, è sconnesso in uscita, buca all'interno, 30, sinistra 3, subito accenno destro, 3 e subito accenno destro, per sinistra 4, diventa 3, per accenno sinistro tieni, accenno sinistro tieni, subito destra 3, vai, per accenno sinistro, destro tieni, subito sinistra 4, vecchi al cartello, sinistra 4, per sinistra 4, subito destra 4, diventa 3, sinistra 4, e subito destra 4, diventa 3, sconnessa al rei, subito sinistra 5, subito sinistra 5, 50, sinistra 3, più per accenno destro, e dopo il muro destra 5, tieni, subito sinistra 4, 20, subito sinistra 4, 20, sinistra 4, tieni, subito destra 3, apre, per destra 4, tieni, al cartello sinistra 3, apre, al cartello 3, apre, 50, punta al cartello rovescio, e destra 4, diventa 3 al muro, 4, diventa 3 al muro, per sinistra 3, 20, al box, sinistra 3, 50, e stai sinistro, a fine siepe, destra 3, per sinistra 5, e attento al cartello, destra 4, tieni, subito al cartello sinistra 4, per al muro, destra piena, muro destra piena, per sinistra piena, e al re il rosso, attento, sinistra 3, tieni, subito destra 3, 3, tempi 30, destra 4, tieni, 3, tempi 30, destra 4, tieni, subito sinistra 3, 30, al re il destra 2, per sinistra 3, 2, per sinistra 3, subito al cartello, accenno destro, per sinistra 3, tieni, subito accenno destro, subito sinistra 4, per al re il destra 3, apre, al re il destra 3, apre, per accenno destro tieni, subito sinistra 4, 2, tempi, 4, 2, tempi, per accenno sinistro tieni, e al rail destra 2, sinistro tiene, rail destra 2, per accenno destro tieni, subito sinistra 2, 30, accenno sinistro tieni, subito destra 2, sinistro tieni e subito destra 2 al ponte, 30, al palo sinistra 3, apre, 2 tempi, subito accenno destro, 2 tempi e subito accenno destro per sinistra piena, per destra 4, 20, tornante sinistro, 50. Grazie a tutti